Volontario all'Opera per un giorno, Simone Barlam, plurimedagliato campione paralimpico, ha dedicato una giornata al volontariato presso Opera San Francesco, un'istituzione milanese per l'assistenza ai poveri. Dopo le vittorie ai giochi paralimpici di Parigi, dove ha conquistato tre ori e un argento, Barlam ha così visitato la mensa storica di Corso Concordia, accolto dal presidente di OSF, Fra Marcello Longhi. Dopo aver visitato i servizi offerti, tra cui l'accoglienza, il servizio docce, che ogni giorno accoglie circa 107 persone, e il guardaroba, dove in media 32 persone ricevono abiti puliti, Barlam ha indossato il grembiule e ha servito i pasti alla mensa, che sostiene quotidianamente circa 2640 ospiti. Oggi sono stato qui, a Opera San Francesco, per capire come funziona questa grande macchina. Ho iniziato la mia visita con un tour, mi hanno mostrato tutto, per poi trasferire alla mensa la mia esperienza e un po' immedesimarmi in quello che fanno i volontari, quindi mi sono messo a servire prima un po' di primi, poi sono passata ai dolci, è stato bellissimo, super gratificante, è bello vedere anche come cambiasse dopo un pasto caldo il volto della persona che si aveva davanti. Dopo le sfide vinte in piscina, il campione di nuoto milanese ha accettato così l'invito a partecipare a volontari all'opera per un giorno. Il progetto che trasforma in volontari di OSF, alcuni tra i volti più noti del paese. L'esperienza di Barlam punta così a sensibilizzare il pubblico verso le attività di Opera San Francesco, che dal 1959 a Milano è un punto di riferimento per i poveri e qualsiasi persona in difficoltà. L'ente offre numerosi servizi, tra cui mense, docce, un poliambulatorio gratuito, supporto lavorativo e progetti di housing per aiutare gli utenti a reintegrarsi nella società. Con un team di oltre 1.350 volontari, OSF ha distribuito solo nell'ultimo anno oltre 836.000 pasti e fornito migliaia di cambi d'abito e visite mediche gratuite.